Allora vediamo velocemente come possiamo texturizzare un oggetto elementare come questo anello per la texturizzazione dobbiamo selezionare l'oggetto ed andare in Edit Mode in modo tale da avere selezionato tutti gli spiccoli e ci assicuriamo di avere una finestra UV Map, UV Image Editor che è questa e ci assicuriamo di vedere che ci sia effettivamente la UV Map in questo caso c'è ma se non ci fosse bisognerebbe costruirla nel prossimo video vedremo anche questa fase perché ripartiremo con un anello da capo comunque per chi fosse interessato qui basta fare un U, quindi fare l'UV Map e in questo caso l'UV Map migliore per farla su questo oggetto è farla con il Follow Active Quads pari, cioè le cose simili, quindi in questo modo si ottiene una UV Map vedete che è quadrata e poi bisogna solo accertarsi di portarla sul nostro oggetto quindi dobbiamo andare sulla destra, selezioniamo tutto e cerchiamo di fare in modo tale che coincida con il nostro textur qui nel caso possiamo ConstraintToImageBound, questo è interessante perché a questo punto vedete che lui fa in modo tale che sia costretta a questo punto occorre poi caricare l'immagine quindi facciamo Open dell'immagine che vogliamo questa è l'immagine che vogliamo mettere che vedete è semplicemente una texture dorata di questo tipo ora come fare a capire se è stata applicata effettivamente una delle tecniche più semplici è quella di verificare dal tasto, dalla barra destra qua andiamo in Display abilitiamo GLSL facciamo Texture Solid e vedete che in questo modo abbiamo la visione del nostro oggetto quindi se noi andiamo in Object Mode vedete che abbiamo l'oggetto texturizzato quindi a questo punto possiamo lavorarci tranquillamente sopra per l'export su Second Life occorre fare solo attenzione a una cosa e cioè vedete che in realtà il nome di questo anello ha un carattere strano in mezzo quindi vado qua faccio faccio doppio clic no anzi tasto destro è Name e qui gli cambio il nome in modo tale che non abbia caratteri strani anello devo fare altre sì essere sicuro che ci sia sul materiale cioè che ci sia un materiale e il modo semplice di texturizzarlo è semplicemente quello di dirgli che su questo materiale facciamo Face Textures quindi risumendo noi avevamo il nostro oggetto gli abbiamo fatto una UV Map che copra l'immagine quindi l'abbiamo associata ci accertiamo di vederla in questo modo qua giusto per capire come viene messa l'immagine quindi che è abbastanza interessante e se è solo un'immagine possiamo andare sul materiale e metterci le Face Textures a questo punto possiamo fare il file Export Collada vedete e poi col collada possiamo specificare l'opzione adatta per Second Life e in particolare il preset di Second Life Static vedete che fa automaticamente delle opzioni che ci interessano e questo qui lo chiamiamo anello ad esempio anello video quindi a questo punto il nostro oggetto è stato tranquillamente esportato in formato collada